Ciao a tutti e benvenuti qui nel nostro canale. Oggi parliamo di Antonella Fiordelisi e della dedica che le ha scritto Mariano, il suo nuovo compagno. La sua carriera e l'amore stanno andando a gonfie vele. Sembra proprio che il vento stia soffiando nella giusta direzione per Antonella Fiordelisi, dalla carriera all'amore. Lunedì escono i nuovi pezzi della collezione Eclipse di The Queen Scacco Matto e si tratta di bracciali, cavigliere e portachiavi. Tra un caffè e l'altro volevo ricordarvi che lunedì usciranno i braccialetti di The Queen Scacco Matto e anche le cavigliere e portachiavi che vi ho fatto vedere l'altra volta. Siamo sicuri che anche stavolta sarà un successo per la sua nuova collezione, siete d'accordo? Ma non è tutto perché come detto prima, non solo il lavoro ma anche la sfera sentimentale per Antonella sembra essere prosperosa. Attualmente a Napoli dalla famiglia di Mariano De Matteis, Antonella e il suo nuovo ragazzo ieri sono andati a Dischia col gommone di lui e Antonella ha anche scherzato sul fatto che forse non era stata una buona idea perché c'era un sacco di vento ed ha pubblicato un video a riguardo. Invece ne è valsa la pena perché una volta arrivati in un ristorante Antonella ha ricevuto una sorpresa scritta nero su bianco da parte di Mariano. Si tratta di un pezzo di una canzone di Jolier con infine la scritta se è speciale. Cosa ne pensate? Aspettiamo i vostri commenti, fateci sapere qual è la vostra opinione al riguardo e condividete questo video con amici e parenti. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e grazie per averci seguito. A presto!